Siamo stati lontani, ma non eravamo distanti. Siamo stati a casa, ma non eravamo soli. Abbiamo imparato ad imparare in un modo completamente nuovo. Non abbiamo smesso di studiare, di insegnare, di riflettere, di confrontarci. Non abbiamo mai smesso di creare. Abbiamo capito che la nostra forza è la conoscenza. Ci siamo aiutati, uno con l'altro, l'uno con l'altro. Come un amico, come un insegnante, come uno studente, come una comunità. L'abbiamo fatto. E adesso? Siamo pronti. Siamo pronti. Happy Christmas and Happy New Year. Buone feste. Auguri. 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 Merry Christmas. Auguri. Auguri. Auguri per questo Natale diverso e che il 2021 sia un anno nuovo. Uo. Grazie a tutti.